Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Donarsi, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia? Non c'è gioia più bella del donarsi all'umanità per le opere sacre, per ideali grandiosi, per realizzare qualcosa di positivo che alla comunità possa servire veramente. Quindi la gioia più bella è un dono completo quando uno si mette a disposizione e si offre per un centro di accoglienza, per una chiesa, per un orfanotrofio, aiutando appunto le persone che veramente hanno bisogno. Perché un nostro piccolo gesto, ricordatelo sempre, alle persone che stanno soffrendo molto è amplificato, vale molto e di grande aiuto. Quindi questi gesti, questi aiuti che sono di grande valore, per molte persone che soffrono, sono di aiuto grandioso. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Donarsi. Non c'è gioia più bella del donarsi completamente all'umanità, alla vita e viverla felicemente. La gioia più bella è il dono completo che si offre sulla terra come opera di menso gaudio. Donarsi a tutti per vivere veramente ottenendo i frutti della gioia solenne. Grazie, condividete a tutti.